Bentornati con le consente e previsioni a cura di Meteo One. Sull'Europa occidentale una vasta depressione atlantica spingerà sulle regioni del nord Italia intensi fronti temporaleschi, seguiti da un calo termico generalizzato. Le regioni meridionali invece si troveranno sotto un'intensa risalita di aria calda africana, con temperature in ulteriore rialzo e punti di 40 gradi su alcune zone interne. Un'ondata di caldo intenso che non sperentevamo dall'estate del 2012. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per martedì 27 giugno. Clima molto caldo già dalle prime ore della giornata, con cili generalmente sereni ovunque. Nel pomeriggio qualche nube in più solamente su rilievi appenninici lucani, ma senza fenomeni. Sereno a sera ovunque. Per quanto riguarda le temperature, così come possiamo vedere dalla grafica, saranno in aumento sia nei valori massimi che nei valori minimi, con punte massime che localmente, su Foggiano e zona interna del Barreise, Materano e Leccise, potranno toccare nuovamente i 35-36 gradi. Venti rinforzo dai quadranti meridionali, mari da poco mossi e ammossi, sia lo Ionio che l'Adriatico. Per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno, oggi vi mostriamo questo particolare evento che ha interessato la città di Altamura. È ben visibile lo sviluppo di un temporale con annesso forte a Quazzune, che ha interessato unicamente il comune di Altamura, lasciando attorno a sé il cielo sereno. Se volete inviarci la vostra foto del giorno, contattateci al numero WhatsApp e alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto del migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.